Bene amici, lui è Xiaomi 13 Lite, bellissimo, appena l'ho preso in mano, appena l'ho toccato, leggero, sottile, maneggevole, un buon sensore, un bel display, ho detto cavolo, Xiaomi ha fatto centro, il prezzo però è un pochino alto, 499€, non ci sono più i Lite di una volta. Il software è abbastanza affidabile, con qualche sbavatura, ma andiamo a scoprirlo nella recensione completa. E partiamo a bomba, qua vi scrivo il contenuto della confezione, lui è spesso 7,2 mm, veramente bello, 171 grammi, ecco l'unica cosa, il display curvo a qualcuno piace, a qualcuno no, ma gli dona veramente snellezza. Bella anche la cam posteriore come design, 50 megapixel principale, purtroppo non c'è lo stabilizzatore ottico, 8 megapixel, la grande angolare 120 gradi, poi l'inutile 2 megapixel macro. La particolarità sta nel fatto di avere doppia cam anche davanti, una effetto depth, quindi bokeh, e l'altra è una 32 megapixel. L'audio purtroppo è mono, esce solo sotto, jack non esce il video, e poi doppia sim, ma niente espansione di memoria, solo 128 GB, tra l'altro UFS 2.2, non le 3.1. Snapdragon 7 generazione 1, 4 nanometri, il processo produttivo, accensione e spegnimento, volume, qua sopra ci sono i sempre utili infrarossi, e da questa parte non c'è nulla. La scocca è vero che è di plastica, ma le finiture sono veramente notevoli, di altissimo livello. Wi-Fi 6, dual band, Bluetooth 5.2, un sensore sotto allo schermo che funziona bene, ok GPS, e ok anche Android Auto. La batteria, 22,5 wattora, carica a 67 watt, da 0 a 140 minuti, non ha la ricarica wireless, ma devo dire che si comporta decisamente bene. Vi faccio vedere un paio di screenshot di giornate stress, questa è stata una giornata abbastanza standard, 4 ore 58, 15% alle 22 e 46, questa è stata una giornata più stressante, sono arrivato con, vedete, l'11%, 5 ore 25 di display. È un telefono che un filino scalda sotto stress, è un po' Dr. Jack e Mr. Hyde, ma nonostante questo, a sera con il 15% ci arriva. Display 6,55 pollici, AMOLED, 120 Hz, 1000 nit di luminosità massima, che non sono pochi, va benissimo anche sotto la luce del sole, vanno praticamente bene in ogni situazione, essendo un AMOLED contrasti perfetti, anche i colori ben tarati, ci sono insieme a quattro tarature, quindi se lo si può anche regolare tranquillamente, e l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è alle basse luci. Se io vado a abbassare tanto la luminosità, entro nelle impostazioni, le scritte, soprattutto i bianchi, su sfondo nero, trascinano particolarmente. Ormai la qualità del display si è un po' uniformata, quelli AMOLED si gioca tanto sulla luminosità massima, e proprio su questa caratteristica di gestire bene le luci alla bassa luminosità. Qua siamo, display via di mezzo. Parte telefonica, chiamiamo subito il 190, attivo il mio voce, possibilità di registrare la chiamata, il dialer, quello stock di Google, l'audio esce qua sotto, abbastanza bene, devo dire, il volume, a media velocità in macchina sono riuscito a chiamare, buono, diciamo, mediamente buono l'audio in capsula, ho trovato telefoni più squillanti, questo forse è un po' medioso, un po' chiuso, però telefonate in questi giorni, non ho mai avuto problemi, ma vi parlo di software. Allora, purtroppo c'è ancora Android 12 con le patch ancora al 2022, vedete, primo dicembre 2022, e questo al lancio, secondo me, è un minus, anche se chi usa Xiaomi sa che è la versione della MIUI che poi comanda, che poi fa la grafica, che poi fa il telefono, e qua siamo alla MIUI 14. Xiaomi, tra l'altro, ha dichiarato tre anni di aggiornamenti major, major update, e cinque anni di patch, quindi speriamo che arrivi un aggiornamento software. Come al solito, la MIUI è molto personalizzabile, ci sono i temi, tant'è che io l'ho un po' personalizzata, perché il design della MIUI, secondo me, tra 13 e 14 poteva essere svecchiato, poteva venire migliorato graficamente, invece è rimasto praticamente quello, ma tra i temi, tra gli sfondi, le suonerie, il testo, quindi il font, si può veramente personalizzare, cosa che io ho fatto, vedete, queste non sono le icone stock, e il testo stock della MIUI. Alla fine, la cosa che mi è piaciuta, è che io non ho notato particolari bug al lancio, il telefono è veloce, comunque questo processore è un processore che lo fa girare, che lo fa girare bene, vedete, non ha problemi, adesso sono in 4G, qua non prende il 5G, ho staccato il Wi-Fi nel mio vecchio ufficio, quindi non sono sotto rete Wi-Fi, ma devo dire che non ho notato particolari... Allora, qualche lagghettino ogni tanto sotto stress, soprattutto nel maledetto e poco ottimizzato Instagram per Android, sì, ma nulla di grave come praticamente tutti i medi di gamma Android, vedete anche il passare tra un'applicazione e l'altra, non ha mai dato particolarmente dei problemi, e l'unica cosa che devo segnalare è il touch. Allora, la velocità è buona, ma quando a volte bisogna prendere le lettere qua ai bordi, perde qualche colpettino, mi è capitato in più di un'occasione, e l'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è il feed della vibrazione, perché no, non è zanzaroso, è abbastanza preciso, ma è anche abbastanza moscio purtroppo. Torniamo alla bomba, vi parlo di come scatta le foto, andiamo nell'album della fotocamera, e a parte qua studiare cosa fare nel mio vecchio ufficio, qua magari lancio un sondaggio, ditemi voi, ci metto una cucinetta e lo affitto, lo affitto magari giornata, Airbnb, eccetera, eccetera, oppure lascio l'ufficio per chi ha bisogno di un luogo dove fare una riunione, per chi ha bisogno di un punto d'appoggio, oppure come mi ha detto Pietro, caro Andrea, fai una cosa, metti un vetro, un plexi, da dove c'è la cantinetta, metti qua un letto e lo affitti come B&B a chi vuole venire a Milano un paio di giorni e vuole dormire nella tua ex cantinetta. Vabbè, vedremo, comunque scusate l'uso personale del mezzo, ma il mezzo, il cari di YouTube, è mio. Grande angolare, normale, zoom, ovviamente interpolata a queste due per, questo è 5 per, questo è il bokeh con la cam posteriore, questa invece è la cam anteriore, non mi ha convinto tantissimo, è grande angolare, 32 megapixel, 100 gradi, quindi molto più grande angolare di altre cam, qua invece è una foto fatta sempre con l'anteriore, ma con la funzione non grande angolare, sapete che è a fuoco lo sfondo, non sono a fuoco io, ma ho avuto tante foto, quella anteriore che doveva essere un po' il cavolo di battaglia non mi ha convinto tantissimo, mentre molto bene le macro. Per quanto riguarda i video, i 4K arrivano a 30, non 60 per secondi, ci possono fare solo con la principale, qua state vedendo un pezzettino di video proprio con la principale e qua lascio ai commenti live sulla grande angolare. E purtroppo con la grande angolare massimo 1080-30, neanche 1080-60, quello solo con la principale. Qua foto con poca luce, qua ascensore, anche qua con poca luce, riassumendo, foto da buon medio gamma, video un po' scattosi, se le foto sono da buon medio gamma, i video da medio gamma e basta. Il volume è molto alto, però come dicevo prima è solo mono, sentite? Esce solo da questo altoparlante, come vedete non c'è il jack per le cuffie e vi ho detto già all'inizio quanto costa questo telefono. 499 euro al lancio, che sono tanti sì, perché si va a scontrare con Pixel 6a, Xiaomi 12, che si trova più o meno a questo prezzo, e tanti altri telefoni in questa fascia. Phone factor e design direi perfetti, perché è bello, è leggero, è maneggevole. Ecco, forse io personalmente preferisco uno schermo piatto rispetto a uno schermo curvo, anche per la visualizzazione delle foto, però devo dire che non si prende dentro nei bordi, ma la tacciosità non perfetta, scusate il termine, e francamente uscire con Android 12, benché sia, ciao Chiara, ti rispondo dopo, una pippa, perché poi si aggiornerà, non va benissimo. Quindi si aggiornerà e calerà di prezzo. Allora sì che sarà un bel telefono. Oggi un filo troppo caro, insomma, come diciamo, quando escono, meglio lasciarli lì, loro, come il vino, maturano e poi ha senso comprarli. Però la cosa che mi è piaciuta è che ho trovato meno bug del solito, una MIUI abbastanza stabile. Ciao!